Buongiorno e benvenuti a Inter Connection, parleremo ovviamente di Inter, soprattutto la striscia positiva di Nero Arturi, ben 5 le vittorie consecutive, 43 gol fatti, 15 subiti, miglior attacco della Serie A, ma soprattutto l'Inter che non subisce gol da ben 4 partite in Serie A. Analizzeremo questi numeri, il sorteggio in Champions, perché l'Inter avrà un avversario tosto, ovvero il Liverpool e parleremo anche della prossima avversaria in campionato, domani sera l'Inter se la vedrà con la Salernitana. Quindi tanti temi da commentare insieme, sarete anche voi protagonisti da casa, quindi aspettiamo i vostri messaggi su WhatsApp, potete scriverci al 333 66 816. Tutto questo in compagnia dei padroni di casa di Inter Connection, in attesa anche del ritorno di Alfio Musmarra, do il benvenuto a Lorenzo Macri, vi ritrovato. Ciao Serena, ciao a tutti. Gianmarco Viacentini, benvenuto. Ciao Serena, ciao a tutti. E Fabio Valenti. Ciao, buongiorno a tutti, grazie. Allora, vi ricordo che potete seguire anche la pagina Instagram di Inter Connection, ve la mostro, eccola qua, per restare anche aggiornati su tutti i temi Inter, quindi proprio su Instagram Inter Connection 1908, iniziate a seguirla, mi raccomando. Tutti i giovedì l'appuntamento dalle 12 alle 13 su Top Calcio 24 e Tele Lombardia. Allora, Lorenzo, iniziamo proprio dai numeri positivi di questa Inter, perché è un Inter prima in classifica, il sorpasso è arrivato, è un Inter che sta facendo molto bene, soprattutto tutti stanno dando il loro contributo, è un Inter completa, è un Inter matura, fin dove può spingersi questa Inter? Ma io credo che i tanti meriti di quest'Inter vadano assegnati a Simone Inzaghi, che fin dall'inizio è stato un po' criticato, anche da noi qua in studio è stato criticato, perché io ammetto di avere criticato alcune volte Simone Inzaghi, però sempre concessa la scusante, io gli ho sempre concesso la scusante del tempo, visto che all'inizio comunque qualche cambio l'ha sbagliato, ma è giustificatissimo, perché era un allenatore che doveva anche capire e doveva aspettare, avere tempo per capire quali erano i cambi giusti, quali erano gli interpreti giusti, i giocatori giusti. Io credo che sia un Inter totale, perché gioca molto meglio della squadra dell'anno scorso, pur avendo acquisito anche una buona solidità difensiva come soffermavi tu all'inizio, quindi credo che si possa spingere sicuramente nella riconferma dello scudetto, perché ad oggi tolta l'Atalanta che forse può dare fastidio molto all'Inter, io credo che il Milan e Atalanta, io credo che il Napoli possa calare un po', lo stiamo già vedendo, nonostante gli infortuni chiaramente, però credo che quest'Inter vada soltanto che applaudita. Gianmarco, un Inter che sta facendo meglio rispetto alla scorsa stagione, alla 17esima giornata, qui abbiamo anche la grafica che riassume l'Inter oggi e un anno fa, perché i punti erano 35, quest'anno sono 40, gol fatti gli stessi, 43-43, gol subiti 23 e invece quest'anno solamente è 15, quindi è un Inter che in questo momento sta dando qualcosa in più. Sì, allora, tra l'altro siamo riusciti a superare il turno che era a dieci anni che non lo faceva, e non è un piccolo particolare, per cui io credo che Simone Inzaghi abbia dato veramente tanta linfa e tanta brillantezza a questa squadra, io non credo molto alla continuità, molti dicono che c'è continuità, io credo che sia l'Inter di Simone Inzaghi e lo dico io che sono sempre stato un sostenitore di Conte, quindi voglio dire grande merito a Conte per quello che ha fatto, lo scudetto che abbiamo sulla maglia, ma Simone Inzaghi ha dato questa creatività e questa fantasia che l'anno scorso non avevamo, magari eravamo più cinici sotto porta, quello sì, ma adesso creiamo magari molto più di prima, poi in base, noi siamo abituati magari, eravamo abituati magari a creare quattro occasioni e due dentro, adesso ne creiamo 20 e facciamo due, tre gol e dici ma quanti ne stiamo sbagliando, ma proprio è il modus operandi secondo me che porta a avere tante occasioni, ecco lui a cosa mi piacerebbe un po' più di concentrazione alla fine quando tiri in porta, tutto qua, vedo certe volte degli errori di da foga, tipo gente che ha il busto indietro, che tira oppure che vuol tirare al volo, ecco un po' più di calma, secondo me è una grande inter quella di quest'anno, siamo tutti gasati. Giustamente lo dicono anche i numeri perché Fabio ha anche un record dell'Inter nel 2021, ha vinto ben 18 partite casalinghe, ne parlavamo anche lo scorso giovedì e quindi anche questo è un dato importante. No sicuramente, sicuramente il pubblico di San Siro è soddisfatto di vedere giocare l'Inter finalmente bene, come diceva Marco, sì, non è più l'Inter di Conte, forse non l'ho mai stata quest'anno dall'inizio della stagione, in Zaghi, anch'io come Lorenzo all'inizio dico la verità, l'ho un po' criticata, vuoi perché sbagliava, inseriva dei giocatori dentro con le sostituzioni, l'abbiamo sempre criticato magari di sbagliare certi cambi come Danfis con la Juventus, gli sbagliava e sbagliava i cambi oppure i giocatori non erano ancora in forma o non avevano capito ancora bene il gioco di in Zaghi, un gioco offensivo, vuoi anche perché le squadre quando vengono a San Siro si sentono, arriviamo a San Siro contro l'Inter con un attacco così, una squadra così che ha voglia di fare gol di giocare bene, quindi si mettono in difesa e subiscono tanto e noi siamo, li vediamo anche dei gol fatti, comunque 43 gol. Sul fatto che sia l'Inter di Simone in Zaghi non sono troppo d'accordo, nel senso che gli interpreti… Quindi non sei d'accordo con me? No, no, come no, come no, come no, no, cavolo non è d'accordo con me, vabbè, andiamo avanti, nel senso che Simone in Zaghi sta dando all'Inter una libertà di pensiero ai calciatori e agli interpreti per cui dopo si trasmuta in grande calcio perché l'anno scorso sappiamo benissimo come Antonio Conte avesse dei compiti difensivi, fosse maniacale anche nell'aspetto tattico, ecco, l'assetto tattico è quello di Antonio Conte dell'anno scorso ma questo va a dimostrare l'intelligenza di Simone in Zaghi, attenzione, però cambia, cambia sicuramente dal punto di vista del gioco, cambia sicuramente dal punto di vista umano, però l'assetto tattico e l'impostazione tattica anche nell'uscita da dietro è molto simile a quella di Antonio Conte, il che non vuol dire che Simone in Zaghi sta facendo un grande lavoro, non voglio dire questo. Alzo la mano. Ci manca io. Prego Gianmarco. No, però è chiaro che diciamo l'assetto tattico, concordo con te, però lui lo faceva anche alla Lazio il 3-5-2, diciamo che c'è stata una consecuzione che Varota ha voluto intelligentemente portare, perché noi giocavamo con il 3-5-2, però il 3-5-2 c'è anche adesso, come dici tu, la costruzione dell'azione c'è anche, diciamo come era l'anno scorso, dal basso, però per esempio, faccio un esempio, i due player tipo Ciaranoglu e Brozovic, quando ha visto che Brozovic veniva marcato costantemente a uomo per tarpare le ali all'Inter, è una sua idea. Le varie fantasie di non giocare solo sugli esterni con cross per Lukaku, ma attivarsi con verticalizzazioni, sono sue idee di Simone in Zaghi, quindi secondo me la consecuzione non la vedo tanto, la continuità non la vedo tanto con Conte, sapete che io stravedevo per Conte e non rinnego niente, stravedo, ero disastrato, come si dice, sotto un treno quando, ti ricordi Serena? Quando ero andato via Conte, quando ero andato via Kimi e Lukaku, volevo buttarmi giù dal Pordoi, però alla fine, intanto chapeau a questo allenatore che ha messo tante cose che prima non c'erano. Fabio, pensi che Simone in Zaghi sia agevolato dal lavoro che ha fatto Antonio Conte, sei più d'accordo con Lorenzo o con Gianmarco? Io verso... Stai attento a quello che dici Fabio. Con Gianmarco, ti dico anche perché. Poi non ti parlo più. Esatto. Ma ti dico perché. No, perché stasera poi siamo al 55, faccio un aperitivo, io e lui saremo in un tavolo e Lorenzo lo mettiamo in un altro. Sicuramente il modulo, per forza devo continuare con il modulo di Conte, però comunque prima il gioco era palla Lukaku o palla Kimi e via velocità e porta. Adesso il gioco è completamente diverso, penso. E poi anche dai gol subiti. Prima aspettavamo molto la squadra, adesso attacchiamo, adesso spingiamo. Con cosa iniziamo stasera il aperitivo? No, se mi lasci replicare ne ho fatto un discorso squisitamente tattico, nel senso che l'eredità e gli interpreti sono pressoché gli stessi, tranne Lukaku e Kimi, la difesa non l'ha toccata, ha fatto benissimo, il play che Brozovic non l'ha toccato, è chiaro che ha dato molta più libertà di pensiero ai calciatori e questo si trasmuta in calcio champagne, perché Cialanoglu mi ricorda molto il Luis Alberto di Simone Inzaghi, ecco lì ti dico, quello è il merito. Bravo Lorenzo, questo guarda te lo appoggio in toto come idea, però quando si parla di eredità tattica bisogna ammettere che Simone Inzaghi intelligentemente ha ereditato un lavoro di... Guarda i gol subiti, quanti in meno, perché? Perché sei sempre nella difesa avversaria, prima Conte invece giocavi nella tua metà campo. Ma ricordiamoci che però ora l'Inter con i giocatori lì per fare quel gioco lì e arretrare il baricentro di 30 metri non li ha più, perché senza Lukaku e Hakimi tu con chi vai in contropiede, quindi sei costretto a tenere un baricentro un po' più alto. Ma meno male, mi piace vedere giocare nella... Esponendoti un po' più a rischio. No, poi voglio aggiungere, fare un piccolo deciso, scusa Serena, perché quello che diceva Fabio sul discorso del che prendiamo meno gol perché stiamo nella loro area, quando ci viene imputato che noi abbiamo preso tanti rigori, cioè ci è andato Anderio, a partire ne ha sbagliati anche tanti, ma al di là di questo perché... 9 rigori. Però ne ha sbagliati un po', adesso non mi fate dire quanti perché mi nervosisco, però questo concetto è il fatto che noi comunque stiamo sempre nella loro area, quindi vivendo nell'area dell'avversario è chiaro che poi succede che ci danno i rigori. Da casa ci stanno scrivendo tante opinioni, erano molti anni che non si vedeva giocare a calcio l'Inter, lo fa grazie a Inzaghi, Conte ha dato solo la mentalità vincente Francesco D'Aleccio, un po' il pensiero di Lorenzo, è ancora la lasta di Inzaghi, sempre grande girone d'andata, ma nei mesi di gennaio e febbraio sempre dai 10-12 punti in meno e ancora mi trovo d'accordo con Lorenzo, volevo dire al grande piace che l'anno scorso, Piacentini, quando Brasovic veniva letteralmente ingabbiato l'Inter utilizzava Eriksen come play per impostare il gioco. E ancora da interistare, ringrazio Conte per averci fatto vincere, ma adesso speriamo di vincere con Inzaghi, felice per aver passato il turno in Champions. Sì, sono d'accordo con Francesco D'Alecce, quello che ha detto, quello che dice invece secondo me molto acutamente, ed è la ragione, sul discorso del doppio play di Eriksen e di Brozovic era, consentimi un po' diverso, io vedo Cialanoglu che viene quasi a fianco a 6-7 metri, Eriksen il doppio play lo faceva un po' più avanti, questa è una mia idea, i miei ricordi, poi il match analyst è Lorenzo. No, è vero, è giusto quello che dici, è chiaro che secondo me oggi i giocatori dell'Inter hanno più tranquillità nel poter spaziare in campo, ecco con Antonio Conte avevano delle posizioni da cui non potevano uscire, con Simone Inzaghi c'è molta più libertà di pensiero e questo si trasmuta poi in calcio più divertente, più bello, si scambiano le posizioni, ecco Antonio Conte era da quel punto di vista molto intransigente a livello tattico e quindi però Simone Inzaghi sta facendo un grande lavoro, aspettiamo ora sicuramente prima di dare delle valutazioni come non le abbiamo date all'inizio, secondo me è presto per poterle dare ora perché manca un girone, poi commenteremo insieme Serena tutto il calendario di gennaio che sarà determinante poi per l'Inter, però credo fermamente che Simone Inzaghi oggi all'Inter stia dando un valore aggiunto e va sicuramente premiata la scelta di Marotta e Ausilio nel scegliere un allenatore perché l'allenatore Simone Inzaghi è stato scelto per ereditare un certo tipo di gioco. Allora, il telespettatore ha citato Eriksen, tra l'altro è arrivato il no del CONI, lo leggiamo insieme da Sportmedia, è stato l'incontro con l'Inter per la risoluzione, il danese non può più giocare in Italia dopo a causa del defibrillatore sottocutano che le è stato impiantato dopo il malore agli europei ma continuerà a giocare altrove. Ma io posso dire una cosa, io mi ricordo eravamo proprio qua a Tena Lombardia, c'era il professor Castiglioni che sapevano tutti che è un grande primario di cardiochirurgia e lui in trasmissione senza dare sentenza ha detto, ha fatto questa faccia come a dire, non credo che possa giocare in Italia però mi chiedo, cioè mi chiedo ma caro Eriksen, c'hai un'età, bene o male che ancora sei, che potresti giocare d'accordo, però con quello che ti sei visto davanti e con la bellissima famiglia e con qualche soldino che c'hai, per non dire tanti, in fondo chi te lo fa fare, cioè goditi la vita, fai l'allenatore piuttosto che il commentatore, più dicendo, cioè cosa vai a rischiare, almeno io se fossi un suo amico gli direi cosa vai a rischiare, cioè hai una bella famiglia, una bella moglie, i bambini, cioè cosa vai a rischiare, una roba del genere, per che cosa, cioè davanti molti più anni da vivere di quelli che stai rischiando magari, no? Basta vedere già Marco quello che ha fatto ieri il Kunaghero che anche lui per problemi cardiaci ha dovuto abbandonare il calcio, uno, un giocatore, è ancora giovane alla fine comunque Eh sì, dell'88, 33 anni, ancora 3-4 anni avrebbe potuto farle tranquillamente E' più, diciamo a qualche anno in più di Eriksen, d'accordo? 88 contro 92 Eh, sono 4 anni, esatto, sì sì Lui lo sa bene 92, perché nel 92 anche lui, capito? Però il concetto è che in effetti io, cioè 92 sei giovane e puoi ancora giocare un Eriksen anche a 5 anni ancora a grandi livelli Però sai, la bilancia è sempre vedere, di qua c'è la vita e di qua c'è il rischio Comunque c'è il rischio, perché se nel Dalconi è arrivato un secco no perché noi in Italia abbiamo un altro tipo di protocollo di protocollo ed è un protocollo più stretto, più giustamente, più serio Non si transige su questi tipi di problemi Lui potrebbe giocare in Danimarca, nell'Odense e in Olanda e nell'Ajax Ma io mi dico, ma Eriksen, ma chi te lo fa fare? Cioè, di rischiare Il Nazionale quindi no Eh? Il Nazionale no Non lo so, sai, il Nazionale, questa è una bella domanda Fabietto A me mi hanno detto, nell'Odense potrebbe giocare in Danimarca E anche nell'Ajax, però non lo so, nella Nazionale se... Cioè, se il Cone dice di no, non credo, perché... Secondo me no, secondo me il Nazionale... Vigerà una regola, diciamo, un po' più dura, ecco Va bene Comunque sì, è un peccato che debba smettere Sì, perché si era ritrovato proprio nell'ultima parte Molto Della stagione, grazie anche a Antonio Conte che lo inseriva con più continuità E quindi è un peccato perché comunque... Stava iniziando a giocare bene Esatto, ed ha contribuito al titolo Allo strudetto Peccato per Ericsson, stanno arrivando anche tanti messaggi su Ericsson Li leggeremo subito dopo la pubblicità Poi commenteremo insieme anche il calendario Inter E parleremo anche di Cialanoglu, quindi un minuto e ripartiamo Rieccoci nuovamente insieme, ben ritrovati a Inter Connection Allora, in primo piano sicuramente il calendario dell'Inter Che non è semplice Allora, queste due, gli ultimi due partite del 2021 sono abbordabili Ma a gennaio l'Inter avrà un calendario più complicato Allora, domani sera l'Inter se la vedrà con la Salernitana alle 20.45 Poi mercoledì 22 dicembre alle 18.30 l'Inter affronterà, ospiterà il Torino Il 6 gennaio l'Inter sarà impegnato nella trasferta di Bologna E poi il 9 gennaio ci sarà il big match tra Inter e Lazio Poi la Supercoppa italiana il 12 gennaio contro la Juventus A seguire Atalanta-Inter Inter venenza il 23 gennaio e poi a febbraio il derby Mi fermo qui Perché poi dopo il derby, poi dopo c'è Napoli Napoli e poi la Champions Quindi tutte le partite più difficili l'Inter le avrà nel mese di gennaio A cavallo con febbraio E quindi per la regola che è stata fatta di sfalsare un po' i calendari L'Inter si giocherà secondo me tutto il mese di gennaio Perché se riuscirà a affrontare nel migliore di modi quelle partite E a ricavarne il massimo dei punti possibili Allora potremmo ritenerci secondo me favoriti nella corsa dello scudetto Però sai se perdi con l'Atalanta, se pareggi con il Milan Se poi magari zoppichi con la Lazio E poi attenzione Tutto riparte dopo quasi dieci giorni in cui la squadra non gioca E quindi sappiamo tutti come le pause possano far venire dei dubbi alle squadre Un po' di continuità Sicuramente sarebbe stato meglio giocarle prima della pausa Questi tipi di partite In modo tale da avere un po' di continuità Il fatto che ci si fermi e poi avere subito questo girone Questo tour de force secondo me è sfavorevole per l'Inter Sì anche se diciamo partiamo subito con il Bologna e la Lazio E poi arrivano le bombardate Perché comunque il 12 gennaio entra Juventus la Supercoppa Poi c'è l'Atalanta Poi c'è l'Atalanta Tanta roba C'è l'Atalanta, il Milan e il Napoli Diciamo che abbiamo un bel tour de force Cioè mangiate meno panettone ragazzi Non è meglio togliersi Qualche flutti meno di spumante italiano E cerchiamo un attimo di... Beh insomma è lì da vedere È dura eh Poi parleremo anche delle palline Eh sì Del Liverpool Non è meglio Non è meglio Almeno la facciata subito E poi il calendario in discesa Da un lato Sì però per esempio Domani sera che abbiamo la Salernitana No? Cioè domani sera c'è Salernitana Tra l'altro anche da dire C'è da dire una cosa Che Salernitana adesso c'era questo discorso Del cambio di proprietà Gli dicendo Io mi metto sempre dalla parte dei tifosi E dico soltanto una cosa Che tra l'altro i tifosi della Salernitana Seguono sempre la loro squadra Con grande calore E meriterebbero un po' più di trasparenza Molto nel mente le cose saranno così Ve lo dico come presunzione di ipotesi Ci sarà una deroga Come succede in Italia Perché se fossimo magari in un altro stato Non succederebbe Anche se gli altri stati Non sono privi di pecche E di cose non belle Però succederà una deroga Per far sì che Il club possa essere ceduto In una maniera canonica A qualche cordata Perché il bello è che Ragazzi fuori Io ho amici in finanza A un certo livello Anche a Londra Mi dicono che ci sono tantissimi Tantissimi gruppi che sono interessati A Tutti fondi Esatto A comprare delle squadre italiane Sia serie A che serie B Ma incontrano Dei problemi paurosi Sulla burocrazia Sull'iter per acquistare Cioè non è come venire qua E acquistare Un'azienda Un ristorante Che ne so Una gelateria Dico una cavolata O un SRL Qualsiasi No Di infissio Cioè Acquistare in Italia Una società di calcio È una cosa complicatissima Allora Benvengano Certi tipi di Lucchetti Che fanno sì Che si veda Trasparenza E non fondi Che arrivano Chissà da dove E perché vengono Però Il fatto stesso È che la selenità Che è una squadra importante Perché in serie A Non abbia ancora Il passaggio di proprietà Anche perché rischia l'esclusione Sì Ma il problema È che quando però Rischia l'esclusione Chi va di mezzo Sono sempre i poveri tifosi Che tra l'altro La seguono Pagano il biglietto Fanno le trasferte Quello che fa da fastidio Capito? Quindi sicuramente domani Tre punti per l'Inter Dai Questo vuoi dire Ragazzi È testa a coda Voglio dire Senza Con tutto rispetto Per la Salernitana Domani Secondo me Dovrebbe essere Non me lo fate dire Perché sono scaramantico Ma dovrebbe essere Il risultato Che tutti auspichiamo Ma io mi auguro Anche con un buon turn over Di vedere magari Vediamo la probabile Formazione Domani sera Finderà in campo Con Andanovic In porta In difesa Bastoni Di Evrae Scrinia A centrocampo Peris C'è la Noblu Brozovic Barella E Donfris E in attacco Martinez Con Dzeko Li mette tutti Li mette tutti Turn over Ma questo Ma allora Sulla Salernitana Se non fai turn over Vuole tenere alto La concentrazione Secondo me Lo fa nel secondo tempo Il turn over Io avrei visto Un Persic Un attimino Da far riposare Che è quello che vedo Un pelino più stanco Ma è venerdì Poi abbiamo mercoledì Il Toro E poi c'è C'è la pausa Allora Non lo so Lorenzo Sì no Mi aspettavo anche io Un po' più di turn over Poi questa qua La probabile Formazione Certo La probabile Magari ci saranno Due o tre giocatori Di Marco Magari far giocare Sanchez Che ha appena fatto gol Qualche Qualche giocatore in più L'avrei turnato Sicuramente Però ecco Se lui ritiene Di andare in campo Con gli undici titolari Vuol dire che Non vuole mai Abbassare la guardia Vuole sempre tenere I giocatori Tutti Tutti Sul pezzo Sai che Sottovalutare Questi tipi di partite Poi dopo Anche la storia Ci ha insegnato Che è la cosa più sbagliata È vero Tu dici Ma se non facciamo Il turn over Contro la Salernitana Con che squadra La facciamo Ragazzi Però lo scuso Soprattutto vincendo Queste partite Sì però ragazzi Testa e coda Dovremmo fare Almeno 4-5 Giocatori diversi Ma attenzione Io la penso Ragazzi Ma appunto per quello Uno che non ha già Giocato mai Dico Satriano Gagliardini Dicendo Con la Salernitana Potrebbe avere Il motivo Per dire Mi faccio vedere Che ci sono Sempre pronto Se non lo fai Questi turn over Adesso Ma se poi non vinci Con Gagliardini Squad Secondo me Guarda Secondo me Simone Inzaghi Dato che è astuto Mette la formazione Tipo Si porta magari In vantaggio Non mi fate dire Di quanto 2-3-0 Dai E poi Inizia a fare i cambi Perché tanto C'ha 3 slot Magari Di 5 cambi Vabbè Allora Non è turn over Perché il turn over È far riposare i giocatori Vabbè Li fa riposare Se li fai giocare 55-60 minuti Li fai partire Li fai sgambare Una sgambatina Non è quello Il turn over Poi mercoledì C'è sabato Domenica Lunedì Martedì Libero C'ha 20 anni C'ha 25 anni Poi si dicono Buon Natale Giochiamo col toro Allora Prima Lorenzo Hai citato Sanchez Ma nell'ultima parte Parleremo anche di mercato Di incroci di mercato Ipotesi di scambio Però vorrei soffermarmi Proprio su Cialanoglu Da te Lorenzo Voglio sapere l'opinione Di tutti Proprio sul rendimento Di Cialanoglu È incredibile È un giocatore Che Un talento incredibile Che avevamo visto Subito dall'inizio Che non aveva Quella continuità Di rendimento Diciamo che Poteva garantire Il suo talento Però sicuramente Sicuramente È un giocatore Che ora sta determinando Le partite Perché quando gioca Cialanoglu Fa la differenza È del Cialanoglu Che vogliamo vedere Che abbiamo sempre criticato Magari nelle prime partite Quando faceva Un po' più di fatica Io credo che Determinante Come lui determina Le partite Io credo che Determinante Sia stato Simone Inzaghi Nella sua Nella sua gestione Perché Simone Inzaghi Sappiamo benissimo Che dal punto di vista Umano È un grandissimo allenatore E quindi Che dire Di Simone Inzaghi Giocatore del mese E di Cialanoglu Giocatore del mese Giocatore determinante Io credo che Di meglio Non potevamo Aspettarci Da questo gioco Critiche ingiuste? Ma guarda Allora Serena Dico la verità Io quando lo vedevo Giocare nel Milan Ho sempre detto Un buon giocatore Un buon centrocampista Nulla di che Io non mi nascondo Ha esordito con noi Facendo quella bellissima partita La prima che ha fatto Poi è stato da sei Perché bisogna dirlo È stato sufficiente Poi adesso sta venendo fuori Un gran giocatore A me Fa riflettere una cosa Prima Lorenzo diceva Mi ricorda Luisa Alberto Come posizione Come movenze Voglio dire Sono due giocatori Comunque tecnici Vi dicendo Poi Luisa Alberto Ha già dato dimostrazione Di essere Luisa Alberto Cialanoglu deve diventare Come Luisa Alberto A mio avviso Allora io dico Se dovesse diventare Come Luisa Alberto Grande merito Chi ce l'avrebbe Secondo voi Simone Inzaghi Perché il giocatore Ce l'hai Però molte volte Questi giocatori Hanno bisogno Di sentirsi La stima dell'allenatore Di sentirsi La posizione Che è più propria Per loro Più donna Che non è scontato Anche perché lui I compagni I compagni Che lo stimano Che lo stimano E che lo servono E che dialogano con lui Non solo fuori Dall'allenamento Io parlo in campo Quindi tante Tante sinergie Si devono creare Il blocco È successo Dopo il derby Quando si è preso La palla E andare sotto La curva del Milan Dici Avranno rosicato I milanisti Vedere il segnale Ma secondo me qualcosa L'ha è cambiato Secondo me qualcuno Non tutti Però il fatto stesso Che l'abbiamo portato via Si è sbloccato qualcosa Secondo me anche lui Mentalmente si è sbloccato Infatti noi lo chiamiamo Parametro Zero Ma Si sono d'accordo Forse è stato proprio Si è sbloccato qualcosa Perché comunque Ha giocato Però non era così determinante Come adesso Un centrocampista Che ti fa 6 gol E 6 assist No scusa Posso dire Una cosa su questo Un centrocampista Che ti fa 6 gol E 6 assist Non so se voleva Aggiungere qualcosa 6 gol 6 gol 6 assist Dove lo troviamo A parametro zero E diciamo le queste cose qua Insomma è arrivato come Nanananana 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 È un regalo insomma No? È un regalo È un regalo A parametro zero 6 gol 6 assist Chapeau Ciala Continua così Grazie Grazie di avercelo dato Tutto sotto il numero 6 6 gol 6 assist 6 d'ingaggio Va bene Ma tanto non lo paghiamo noi L'ingaggio O no? Non lo paghiamo noi l'ingaggio va bene così per 500mila in più è venuto da noi grazie ciao di aver scelto noi e volete aggiungere qualcosa su cialanoglu perché stanno arrivando tanti messaggi magari facciamo così andiamo in pubblicità di leggiamo poi avremo anche un interessante collegamento per parlare proprio di cialanoglu e del momento con cialanoglu stesso con l'assessore marnati rieccoci rieccoci nuovamente insieme caro gianmarco adesso per parlare di inter abbiamo il piacere di avere in collegamento all'assessore marnati che buongiorno innanzitutto benvenuto buongiorno a voi che affronterà con noi i temi legati ovviamente a questa inter a questo trend positivo e fermeremo ancora su cialanoglu sul rendimento di cialanoglu che sta piacendo non un po perché lasciami dire serena prima non sono riuscito a dire questa cosa io credo che il merito del rendimento di cialanoglu sia stato anche simone in zaghi quando oggettivamente quelle partite un po in mezzo tra le prime e le ultime dove ha iniziato a rendere dopo il derby simone in zaghi ha sempre dimostrato grande fiducia schierandolo rischierandolo quindi sai lui da quel punto di vista sempre ha trovato un allenatore che gli ha fatto capire che lui può essere questo giocatore e quindi credo sia un grande merito di simone in zaghi il rendimento di cialanoglu e che poi oggi cialanoglu è come diceva già marco prima un giocatore che se in forma determina le partite io non so come la pensa poi l'assessore però volevo proprio ricollegarmi al tema di cialanoglu prima di dare la parola a Marnati voglio proprio mostrarvi questa foto perché è un Inter prima in classifica c'è stato il sorpasso e qui siete protagonisti questa l'ha fatta quel burlone dell'assessore Matteo Marnati che è dietro questa uniforme sempre giacca e cravata però c'è un animo creativo e sempre simpatico anzi ha anche a proposito di cialanoglu un'idea che non posso svelare perché domani sarà in trasmissione con noi con il Persaliritana Inter su Tele Lombardia però faccio parlare Matteo vai non dico niente io e no noi apprendiamo anche un po' sul ridere perché è bello anche questo qua il lato del calcio altrimenti anche noi abbiamo subito tanti anni in Milan tanti anni fa per fortuna ultimamente va più bene a noi e quindi io non mi aspettavo sinceramente un sorpasso così presto ma anche perché eravamo a sette punti dal Milan dal Napoli essere invece oggi già primi e abbiamo sinceramente anche due giornate tra virgolette più semplici rispetto agli altri perché se battiamo la Sternitana ovviamente guadagneremo dei punti o col Napoli o col Milan e quindi insomma forse rispetto anche all'anno scorso sta andando molto meglio ce la giochiamo, giochiamo bene, ci divertiamo un sacco, vediamo un sacco di occasioni da gol purtroppo forse meno gol di quanti potremmo farne è una situazione molto bella per l'Inter e come dicevate prima ogni giocatore poi è nel contesto in cui si trova che dà il meglio quindi C'è una logo in questo momento si vede per motivi del merito di Inzaghi merito dei compagni, merito dell'Inter che viaggia a gonfio e vele gli sta dimostrando ovviamente un rendimento superiore a quanto chiunque sia da aspetti e purtroppo i milanisti non la prendono bene soprattutto anche i nostri che sono noi in trasmissione spesso soffrono questa cosa qua però oggi noi ce l'abbiamo noi, lo teniamo stretto e domani facciamo anche un regalo a Cianalogo quindi chi ci seguirà è un pensiero però insomma vogliamo far capire a nome degli interisti che ci seguono quanto vogliamo bene a questo ragazzo e speriamo che ci dia grandi soddisfazioni poi vedo le corna fatte per il GT no no ma è falso Ferrati che si diverte il nostro regista è il sorpasso beh è bello insomma domani continuiamo in questo modo finché possiamo farlo o prendiamo in giro gli altri che noi abbiamo subito per tantissimi anni chi è interista lo sa bene cosa vuol dire essere dell'Inter e invece come commenti il sorteggio Champions? ma allora io mi ricordo quando abbiamo vinto il 2010 ero a Londra quando abbiamo passato il turno e non avremmo mai pensato di poter vincere in quell'anno la Champions poi alla fine devi incontrarli tutti allora forse è meglio in questo momento l'Inter gioca molto bene anche con le grandi squadre ce la giochiamo non mi aspetto granché quindi non mi illudo mi aspetto almeno di giocare alla pari un po' come abbiamo fatto con Real Madrid poi per episodi vari abbiamo perso sia l'andata che il ritorno però abbiamo giocato in alcuni frangenti molto molto bene e non ci sembrava neanche questo grande divario il Liverpool ce la giochiamo come dice Enzaghi forse avere lo stimolo di una grande squadra magari vediamo anche se siamo maturati e siamo in grado di competere anche a livello europeo quindi alla fine dobbiamo incontrarle tutte se vogliamo andare avanti quindi vediamo insomma noi ti fiamo ovviamente con il cuore Matteo tu che oltre a essere molto simpatico hai queste impennate di creatività sei tu che mi influenzi la tua vicinanza per essere creativo non sei molto amato dagli avversari non sei molto amato però Matteo tu che è bello che io ho tanti amici milanisti ma anche in curva proprio da tantissimi anni che ci sfottiamo e mi dicendo poi la gente non lo sa che poi ci divide magari una squadra ma l'amicizia non si divide perché io sono interista e gli altri sono milanisti però al di là di questo tu sei anche pragmatico anche per la professione che svolgi insomma come assessore alla regione Piemonte Tico, cosa ti aspetti dal mercato di gennaio dell'Inter? Non mi aspetto purtroppo tantissimo abbiamo visto che la situazione non è rosea per l'Inter oggettivamente insomma le cose stanno andando bene qualche innesto probabilmente dovremmo farlo perché anche noi cominciamo a essere insomma toccati dagli infortuni sembravamo invincibili ma nessuna squadra è invincibile e poi qualche problema potremmo averlo nei vari reparti quindi secondo me io mi auguro che mettano mano al portafoglio io ho grandissima è il migliore in assoluto perché nonostante tutto quello che è accaduto siamo competitivi e abbiamo giocatori che stanno andando al massimo quindi io credo che lui sia in grado come aveva fatto Ciananoglu a parametro zero di portare in casa dell'Inter giocatori che siano alla terza senza spendere cifre enormi abbiamo visto la Juventus le grandi squadre puntano ai big spendono milioni e milioni di euro e poi non hanno tutto questo grande ritorno quindi alla fine non basta solo spendere bisogna spendere bene Matteo proprio sui parametri zero ecco anche l'Inter corre un po' il rischio di perdere uno dei giocatori più forti che ha in rosa a parametro zero ecco che idea ti sei fatto sul rinnovo di Brozovic bisogna ora oggi filtrano che la cifra che il giocatore e l'entourage voglia sia intorno ai 7 milioni che idea ti sei fatto sul rinnovo di questo giocatore che a nostro parere parlo per noi che siamo qua sempre a parlare di Inter è un giocatore che in quel ruolo fondamentale e determinante per l'Inter io credo che Brozovic si sia meritata la cifra insomma ai 7 milioni ci sono giocatori che prendono anche al pari di lui prenderebbero pari di lui o anche con cifre molto più alte basta vedere Donnarumma ad esempio quindi credo che sia abbastanza in linea e congruo rispetto a quanto ci sta dando non possiamo perdere altri giocatori ma c'era una sottigliazza, una battuta esatto abbiamo conto con un po' di ironia Matteo non ci sbagliamo due parametri zero guarda caso assolutamente sì e invece su Santi questa è la differenza dei dirigenti però avete pazienza, la società incide tantissimo avere bravi manager come abbiamo noi si vede all'interno c'è chi li perde c'è invece che deve renderli operativi per chi acquisisce a parametro zero per avere un ottimo regimento in campo anche a valere dei soldini certo e invece sempre in ottica a mercato visto che stiamo approfondendo il tema l'ipotesi scambio Sanchez con De Jong parto da te Gianmarco è effettibile? può essere un'ipotesi concreta? allora è una voce non una voce è un bel rumor proprio forte che c'è dove Xavi vorrebbe il suo antico antico perché ormai sono passati sette anni compagno di squadra Sanchez tra l'altro i due sono amici proprio al di là di essere stati compagni di squadra quindi vorrebbe questo il discorso di De Jong Luke lo chiamiamo Luke nasce dal fatto che Xavi non lo vede cioè l'ha messo proprio all'argino Gianmarco quale cosa secondo me sono due? o hanno litigato o sono diventati tutti pazzi a Barcellona? io sono d'accordo con lui ma io sono d'accordo con lui perché come si fa? come fai? ma venga che abbia litigato vieni da noi vieni da noi ma cavolo come si fa? un giocatore di una no 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 andiamo noi a prenderlo a Barcellona ma andiamo io a Fabietto dai facciamo anche due giorni a Barcellona Barcellona è stata in crisi nera lo dicono i numeri la classifica soprattutto l'eliminazione in Champions non si era da 21 anni che non era che non era eliminata la fase ai gironi il valore di e lì arriva fuori la giornalista preparatissima sempre il valore di Frankie de Jong secondo me Serena non deve essere attribuito alla classifica del Barcellona è un giocatore che ad oggi è di classe 97 cioè è uno scambio che non ha molto senso anche perché su Sanchez non riesco a capire davvero quale sia restano i dubbi sull'integrità fisica anche del giocatore esattamente sì ma lo scambio io non credo che sia a livello cioè definitivo io credo che lo scambio sia a livello di prestito perché se no a Barcellona devono portare un TSO arrivano le ambulanze con gli elicotteri perché cioè ragazzi stiamo parlando di un giocatore fortissimo cioè uno veramente che può veramente spaccarti le reti e ci vogliono poi per rifare le reti i ricamatori di Genova delle reti da pesca perché questo è forte veramente ho visto giocare dal vivo Italia-Olanda ma è un giocatore di una qualità incredibile sì sì a gamba forte fisicamente sì 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 intelligentissimo tatticamente cioè noi ce lo prendiamo subito posso fare un appello? sono tredici presenze una rete e due assist io dico 1054 minuti guarda che roba io dico soltanto sempre se le ha giocate tutte anche se adesso Sanchez comunque con l'infortunio di Correa come stiamo vedendo sì ma Correa gennaio torre vorrei ritornare ma torna torno adesso il problema è un altro che The Youngs ci stai ascoltando un po' sarebbe un po' strano però voglio sì senza altro ma mai dire male però noi tre io Lorenzo e Fabietto facciamo la macchinata veniamo a prenderti con Seratona e Golf 55 dicendo vieni da noi ti diverti qua a Milano scherzi a parte tanta roba no indipendentemente dallo scambio forse è importante cedere Sanchez per l'ingaggio anche per il poco utilizzo perché comunque è un ingaggio che pesa sulle casse dell'Inter quindi è un'operazione fattibile già a gennaio anche perché c'è una clausola che lui può effettuare anche la risoluzione del contratto un anno prima della scadenza è un ingaggio pesante non so in Italia quante squadre secolerebbero un ingaggio del genere o se lo assorbe l'Inter lo manda giocare non vedo altre soluzioni se non all'estero perché non lo scambio magari con non so al Genova pensavo o al Sassuolo ma non non vedo poi vediamo comunque ma voi andreste a rovinare a rovinare una squadra che sta giocando bene che sono tutti affiatati con un altro inserimento di un altro giocatore boh andreste a rovinare Matteo andreste a rovinare che abbiamo per inserire in un contesto che è positivo quindi farai crescere quelli che abbiamo dietro le seconde linee anche io sono d'accordo che squadra che vince in teoria non si deve mai toccare ma che abbiamo scambiarei volentieri però devo dire la verità uno cioè io anche se l'Inter sta avendo questo grande rendimento questa bellissima classifica io lo prenderei subito un giocatore come De Jong per un giocatore come Sanchez è arrivato ormai comunque a fine carriera Lory De Jong sì ma un Raspadori un Scamacca no va bene se cambi cambi su un top player attenzione ragazzi sono valori totalmente diversi Raspadori Scamacca sono giocatori che devono esplodere De Jong è un campione fatto e finito cioè sono cose totalmente voglio dire una cosa voglio dire una cosa a proposito di questo allora De Jong se dovessimo dovessimo facciamo così fare questo scambio Sanchez-De Jong sarebbe un'operazione relativa a un prestito che poi è difficile che Barcellona ti lasci un giocatore del genere Scamacca e Raspadori non sono per questo mercato sono in vista del mercato estivo per un discorso di progettualità diversa certo che se uno ha De Jong e se lo fa sfuggire cioè io non ho parole poi avrei anche dei dubbi sui dirigenti del Barcellona perché Luke De Jong in questo momento è un crack però un vicegeco ci serve ma certo ma io voglio dire ti dico vado io noleggio una diligenza texana di Bonnie e Clyde e vado a prenderlo a mano a Barcellona non potrebbe giocare in Champions eventualmente eh Lory non potrebbe giocare in Champions De Jong eventualmente campionato campionato qui abbiamo la scheda anche Luke De Jong classe 90 a 31 anni però punta centrale contratto scadenza 2022 se guardiamo il suo rendimento perché lui è la punta centrale ma può fare anche la seconda punta nel suo rendimento 8 presenze una rete in Champions League invece solamente 3 presenze è stato utilizzato 179 minuti questo è un altro profilo sì certo vediamo vediamo un po' cosa esce secondo me non si riuscirà a fare questo scambio perché alla fine perché sarà priorità dell'Inter appunto in qualche modo collocare Sanchez si viene una meraviglia dai anche perché Sanchez oggettivamente è vero è calato molto di rendimento però c'è da dire che quando gioca è sempre pronto è sempre molto professionale comunque anche il gol che ha fatto contro il Cagliari contro il Cagliari è un grande 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 assist di Barella ragazzi Barella ha fatto un assist ha preso la traversa ma non abbiamo parlato di Barella oggi ma ragazzi ma Barella ne ha fatti due uguali di assist cioè Barella tantissima roba ragazzi solo che ormai si è abituato a vedere Barella adesso mi sembra non so chi l'ha detto mi sembra non vorrei dire perché non sono sicuro però c'è qualcuno che ha detto forse l'ex presidente dell'Inter Pellegrini ma non voglio attribuire cose che non ha detto perché non mi ricordo che l'ha paragonato a Matteus il famoso magari però Barella è lì per arrivarci perché Matteus me lo ricordavate quando partiva ragazzi c'era lo stadio lo accompagnava con l'ululato ma Barella per me è un giocatore in questo momento fondamentale per l'Inter sempre sempre aspettando il mio pupillo Stefano Sensi perché io lo sto aspettando piano piano Stefanino cerca di venire ma appunto e con un Sensi in più chi resterebbe fuori? Chiunque chiunque per me Stefano Sensi è il titolare dell'Inter io giocherei Brozovic Barella sinceramente se l'imbarazzo della scelta anche con un Sensi beh magari il parametro lo metto un po' a riposare ogni tanto Stefano Sensi si alterna cioè metto Barella Brozovic e Sensi poi ogni tanto gioca a Matteo Marnati di Sensi cosa dici? Io sono d'accordo con Piacentini Sensi ha delle potenze enormi è un po' delicato ogni volta che gioca si fa male quindi io non capisco se ha se riesce a reggere il duro lavoro perché Barella ve lo ricordate ma fa quante partite fa tutte le fa non lo vedo mai in panchina anche Brozovic sono giocatori che sembrano indistruttibili Sensi si deve riprendere io mi dicono almeno anche raccontando tra di noi le cose è che ha molta paura ad entrare nel gioco perché ha paura di farsi male quindi dal punto di vista psicologico probabilmente ancora non è pronto non lo so prima deve risolvere i problemi con se stesso e poi può ritornare che lo accogliamo a braccia aperte allora ho anche un pochino di messaggi anche perché appunto ci scrivono Luca ci scrive sono convinto che con Inzaghi Barella Perisic e Brozovic non sarebbero quelli che sono diventati con Conte tu come commenti Matteo questo messaggio sei d'accordo? Ma non tanto adesso cioè ripeto poi bisogna vedere passo dopo passo cosa accadrà adesso magari stiamo giocando e poi abbiamo un calo io non lo so l'Inter è un po' pazza quindi è difficile con l'Inter fare dei ragionamenti che siano strutturati nel tempo sicuramente ci sono giocatori che Perisic anche non l'abbiamo ricordato sta dando un rendimento che fino a due anni fa lo volevamo cacciare quindi era sbogliato l'abbiamo cacciato invece sembra un altro giocatore io non so quanto sono intatti bravi i nostri dirigenti e i nostri personali dell'Inter che ci ha veramente a rivoluzionarli proprio su Perisic un altro giocatore che va a scadenza viste le prestazioni di quest'anno lo rinnoveresti? perché comunque anche quella è una scelta qualche dubbio ce l'ho nel senso che io potrei a fine a fine anno poi punterei su anche dei giovani però se no continuiamo a rinnovare rischiamo di fare la fine del 2010 cioè noi dobbiamo pensare che l'Inter deve fare dei filotti al di là del campionato vinto l'anno scorso è quello che probabilmente mi auguro riusciamo a vincere cioè io vorrei vedere un po' l'Inter che faccia quello che ha fatto la Juve per dieci anni cioè diventare una squadra che sia sempre competitiva e per farlo bisogna sempre fare degli innesti i giovani perché se no poi arrivi a trovarti come il Milan o come altre squadre che hai tutti infortunati e ti basi su una persona che ha 40 anni ecco noi non possiamo rischiare questo cioè rinnovare sì ma quelli giovani anche con testa cercano di capire anche i costi benefici che possono portare Perisic non so quanto potrà dare ancora è difficile da capire però quest'anno sta dando veramente risultati grandiose bene grazie a Matteo Marnati per essere stato con noi ciao Matteo ci vediamo domani sera ci vediamo domani sera adesso ci fermiamo restate con noi per l'ultima parte di Interconnection eccoci allora ultimi sei minuti dedicati sicuramente al sorteggio Champions dell'Inter perché sfiderà il Liverpool ma anche al mercato perché comunque si è parlato di questa ipotesi di scambio tra Sanchez e Luke de Jong è anche vero che i numeri non sono così positivi da parte dell'olandese ricordiamo che è un classe 90 ha 31 anni il contratto in scadenza nel 2022 quindi mettendolo a confronto con Sanchez cosa possiamo dire il problema è questo che Luke de Jong è un conto che ci ha purgato che è uno che può stare in campo di certo il pupillo di Lorenzo che è Freddi e io e Young lo andremo tutti e tre a prendere è un sogno ma infatti era normale che De Jong con Sanchez ci guadagni tre anni di differenza quindi diciamo il sogno è sicuramente Frankie de Jong ma quelli non te lo daranno mai ecco però su Sanchez c'è da dire questo infatti su Sanchez c'è da dire che è un giocatore che ad oggi per me con Simone Zaghi può dire la sua poi è chiaro che anche Sanchez dovrà dire magari uno come Sanchez tornare a Barcellona anche con l'addio di Sergio Aguero può poi lo so però Sanchez visto per esempio con il Cagliari così che inizia a giocare alla Sanchez come giocava nel Barça nell'Arsenal nell'Udinese è di un altro pianeta c'è Sanchez gli dai un ananas e due banane ti fa 700 palleggi c'è un giocoliere quando scatta c'è la palla è a 6 centimetri massimo e già sta sbagliando perché di solito ce l'ha 3 cioè è un giocatore di una raffinatezza pazzesca tecnica è che deve avere la testa di voler giocare come sta facendo cioè allenandosi facendo il Sanchez che era il tempo che tutti abbiamo ammirato te la butto lì contro il Liverpool Sanchez passato con Arsenal con Barcellona come lo vedi? tanta roba in un contesto europeo tanta roba Sanchez di un Lautaro che comunque Lautaro io a livello europeo non lo vedo ancora beh ma l'Auti è l'Auti ragazzi lo so però uno che ha assaggiato la Champions eh Lory? un Sanchez contro il Liverpool puoi parleremo anche del Liverpool? ma purtroppo il Liverpool io la penso che sarà molto difficile con il Liverpool l'Inter è stata sfortunatissima perché doveva evitare Bayern Monaco e Liverpool e City però vabbè io credo che il Liverpool oggi sia la squadra più in forma del momento una squadra che è difficile anche da affrontare da tutti i punti di vista fisico tattico io credo che ma poi scusami Lorenzo non voglio dire però noi non giocheremo con sì ma noi non giocheremo contro i pulcini del Liverpool ma con Liverpool scusate se vi interrompo tornando un attimo su Sanchez ha numeri migliori rispetto a Luke De Jong perché Sanchez ha 14 presenze totali tra Serie A e Champions due reti e tre assist ma qui invece Luke De Jong 11 presenze una sola rete sottolineiamo una cosa che qua in studio siamo tutti gasatissimi di no gasatissimi no perché saremmo gasatissimi di portare Frenkie non Luke perché è come dire Rossi Rossi in Italia il nome è abbastanza comune De Jong però chiaro che Lu De Jong non mi entusiasma Frenkie ma non te lo daranno mai in Liverpool cosa temere di questa squadra sicuramente l'attacco e soprattutto ricordiamo con un barella in meno è quello che mi fa girare le scatole abbiamo perso in un momento nebrangico Barella che nel Liverpool confermate no c'era penso un ricorso a breve ma poi non ha fatto niente l'ha fatto così ha voluto abbracciare il polpaccio il senso affettivo io sono d'accordo con te sul fatto che non ha tirato un pugno che è violento ha fatto così e con l'avambraccio sono esagerate sono molto eccessive per me sono esagerate per me io farei ricorso tutta la vita ne prendi una ma almeno al ritorno vediamo il nostro potere in ambito europeo come vabbè vediamo un attimo cosa ne pensano anche che è andata a San Siro e ritorno facciamo un girato da Phil ma insomma non mi stimola molto come città devo dire a parte i Beatles a parte i Beatles non è una città che ha la grigiume comunque sarà in Coppa d'Africa magari torna un po' stanco non gioca sì sì beh dipende poi voglio dire se io sono io dico la verità io voglio andare controcorrente io sono contento di avere beccato il Liverpool perché mi ricorda un passato quando abbiamo il Chelsea e il Chelsea l'abbiamo mandato a casa poi il Barcellona a casa che è il Barcellona il Bayern in finale a casa e abbiamo alzato la Champions oppure se ti eliminano dicono eh beh ci ha eliminato il Liverpool certo che buttare fuori il Liverpool vai ai quarti quando una squadra è favorita era un'altra Inter mi piace dirvelo va beh era un'altra Inter allora io mi ricordo che c'erano i gufi che dicevano l'Inter col Chelsea l'Inter col Barcellona in finale il Bayern avete preso a casa due gol Diego Milito due doppietta bene allora il tempo finisce qui Interconnexion è volata mi piace l'ottimismo di Gianmarco proprio per questa Inter per questo percorso in Champions League saluto e ringrazio Lorenzo Macri per essere stato con noi ciao a tutti grazie a Gianmarco Piacentini ciao a tutti e grazie a Fabio Valenti Interconnexion tornerà giovedì sempre a partire dalle 12 grazie a tutti